allora benvenuti decima puntata di da zibao io sono sempre nicolò grazie per ascoltare questi miei consigli di lettura questa è l'ultima puntata di questa prima serie fatta in questo modo adesso vediamo un po se andare avanti come andare avanti quindi siamo a presentazione dell'ultimo libro ci ho pensato molto quale libro scegliere recentemente ho finito quello di cui vi parlerò lo nascondo ho finito anche rebecca la prima moglie che un'altra cosa che mi sarebbe piaciuto parlare comunque vi consiglio mi sarebbe piaciuto portare qualcosa di booming perché è un modo di scrivere questo collettivo piace molto per tanti aspetti alla fine hanno fatto né l'uno né l'altro porterò finché il caffè è caldo di toshikazu kawaguchi allora romanzo famosissimo stra mega best seller infatti è un romanzo che a me mi gira per casa da qualche tempo ma che proprio perché è uno stra mega best seller sembro molto incassato ma è perché ho abbassato la sedia a pestarci e quindi però per stare soltanto insomma sembro sembro un po un mix fra gig robot però va beh dicevo perché essendo uno stra mega best seller io non lo so sempre questo approccio un po snob per cui super mega best seller mi lasciano sempre un po freddino quindi è girato per caso per un po ho avuto anche qualche riscontro non positivissimo però probabilmente anche per via dell'enorme successo che ha avuto ma veniamo a noi finché il caffè è caldo allora intanto se sono qui a parlarvene è perché è una lettura che vi consiglio indubbiamente ve la consiglio sostanzialmente per un motivo non so neanche se è un motivo valido per consigliare una lettura però per il fatto che il pretesto narrativo il gioco narrativo da cui nasce l'idea che regge tutto quanto il libro è una di quelle cose che vi si attacca addosso e un po vi fa riflettere un po vi porta a continuare a giocare un po vi porta a far delle supposizioni quindi è un libro che persiste diciamo così una volta che avete finito di leggerlo magari non vi rimane tantissimo la storia in sé ma vi rimane l'idea che ha avuto l'autore e vi rimane di continuare a fare delle riflessioni quindi per questo per me è molto bello qual è questo pretesto narrativo c'è questa caffetteria una caffetteria particolare dove tu hai la possibilità di viaggiare nel tempo finché il caffè è caldo perché una delle condizioni di questi viaggi nel tempo è che tu puoi rimanere nell'epoca in cui decidi di andare oltre altre condizioni che non vi spiegherò per la durata del caffè cioè quando il caffè si sta raffreddando tu devi finire e tornare dove vedi in sé per sé non sembra neanche particolarmente innovativo come cose viaggi nel tempo fanno un po parte di tanta narrativa cos'è che lo rende particolare secondo me è una delle regole la regola dice che qualunque cosa tu vai a fare viaggiando nel tempo non influirà sul presente non avrà alcun tipo di influenza sul presente per cui se tu vai a rivivere un evento passato qualunque cosa tu farai rivivendo quell'evento passato non modificherà quello che è successo non cambierà il corso dell'evento quindi non tanto non cambierà il presente ma non cambierà il corso di quell'evento lì per cui se tu vai a rivivere un momento in cui un tuo amore ti ha lasciato rivivendo quella cosa lì non potrai porre a rimedia questo lui ti lascerà lei ti lascerà quindi questo è secondo me è molto originale perché ti porta a fare appunto una riflessione su che cosa tu vorresti rivivere più su che cosa tu vorresti cambiare ed è secondo me a un livello superiore perché qualcosa che vorremmo cambiare probabilmente la sedia a ruota si faccio così perché la sedia a ruota il mio stare fermo è sempre molto limitato nonostante sia sera io sia un po' stanco ma torniamo a noi questo rosso sbatte un po' fa un po' toro no va bene che sotto ho una maglietta che non mi piaceva quindi mi sono messo sta giacca qui infatti fra un po' comincerò a schiumare torniamo a noi allora narrazione allora in sé per sé la scrittura non è che colpisca conquista è molto lineare molto adatta a quello che è la storia a tratti forse un po' troppo ripetitiva però diciamo che non è una scrittura fastidiosa non è scrittura molesta è una scrittura piacevole gradevole che scorre bene va anche detto che è un romanzo giapponese quindi qui entra molto in gioco anche il tema della traduzione è vero che questo è un best seller quindi ci saremmo giocati tutto il meglio possibile sulla traduzione però diciamo che il giappone insomma le lingue orientali hanno proprio uno sviluppo completamente diverso dal nostro e quindi secondo me la traduzione diventa molto molto complessa e anche l'uso stesso della parola è completamente diverso e cercare delle volte di fare delle trasposizioni non è così immediato queste cose le dico a caso però volevo anche dimostrarvi che qualche tempo fa un po' di giapponese io l'ho studiato quindi diciamo che sono cose dette a caso ma non estremamente a caso quindi la scrittura non spicca non è uno di quei libri che ti conquista con la narrazione ti conquista la storia ti conquista il fatto che sono raccontati quattro episodi legati appunto a questa peculiarità questa caratteristica di questo locale quattro storie in un crescendo emotivo quindi ovviamente si parte da quello che all'inizio aiuta anche a chiarire un po' il meccanismo del gioco e poi c'è un crescendo che porta ad un ultimo episodio molto molto intenso diciamo che mi ha conquistato mi ha conquistato l'idea mi ha conquistato come è riuscito a scaricare l'idea mi ricordo una volta c'era un mio vecchio capo quando lavoravo in azienda ancora tanti anni fa che una volta fece la battuta dicendo complimenti e trasformato una buona idea in una cazzata ecco non è così qui l'idea è buona e le quattro storie sono calibrate e misurate molto bene senza arrivare a eccessi cioè sono comunque molto molto misurate quindi molto toccanti ma diciamo toccanti senza avere un'intensità drammatica o melodrammatica eccessiva quindi molto equilibrate a me sono piaciute so che c'è anche un seguito uno due seguiti insomma diciamo che visto il successo che ha avuto è inevitabile che poi dopo ne siano seguiti gli altri che non ho letto e non so neanche se se leggerò ma semplicemente perché l'elenco delle cose da leggere è vastissimo pausa per inserire qui un commento doveroso ok quindi tornando a noi per arrivare alla fine di questo decimo episodio di dance bow e per arrivare alla fine della di questa prima serie di consigli il libro che vi ho consigliato questa volta è finché il caffè caldo di toshikatsu kawaguchi un libro bello per quello che è l'idea che ha la base bello per come è stato sviluppato senza bisogno di essere eccessivo ma riuscendo a toccare corde emotive interessanti anche con grazie e delicatezza senza bisogno avendo in mano un'idea potente di esagerare ma è riuscito a avere un'idea potente e forse facendo in questo modo qui ha lasciato anche a noi lo spazio per poter continuare con la sua idea potente infine vi dico se mi fosse data a me la possibilità di viaggiare nel tempo di vivere un mio episodio della vita io sicuramente l'episodio che vorrei rivivere è indubbiamente questo grazie a tutti grazie a tutti